Good morning, giorno della partenza, oggi dovrebbe essere 18, si parte, mi conferma anche il voto dell'ultimo esame, ufficialmente meno uno agli esami del secondo anno, l'ultimo esame a settembre, però per ora, vacanza Allora, ho deciso che mi porto dietro questa qui, questa maschera, invece questa qui me la faccio stamattina mentre finisco di fare le mie cose Allora, doccio fatto, ho visto anche questa maschera, quindi nel frattempo mentre finisco di preparare di là le cose, tengo su questa maschera, mi vesto, mi metto la crema e tutto Arrivati, amore Allora, vediamo quando ci porta la focaccia Buon appetito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Occhiolino, bacino Grazie a tutti